Ciao a tutti, sono Elle, benvenuti al mio canale, oggi sono qui per raccontarvi, recensirvi questo libro che purtroppo si trova solo in lingua inglese di un'autrice che io adoro disperatamente, una delle mie autrici di romance preferite nel reparto Contemporary Romance, quindi per i romanzi non storici ma contemporanei. Allora, mentre leggevo questo libro che in effetti mi sembra addirittura di aver letto per la prima volta, ho capito perché la Mayberry mi piace così tanto, Mayberry è un'autrice australiana che adesso sembra che sia un po' in pausa o scrive non più per una casa editrice, magari ha avuto qualche problema, però è sempre bravissima. Dicevo, mi sono resa conto che la Mayberry è un po' un mio guilty pleasure, cioè può darsi che alcune cose che scrive sui suoi personaggi, il modo in cui li fa ragionare, abbiano tale impatto su di me perché, insomma, io mi comporterei come i suoi personaggi. In generale lì trovo persone, tutti i personaggi della Mayberry sono persone molto ragionevoli, in genere altruiste, e il modo in cui l'autrice dipanna la trama è veritiero, non crea drammi inutili. I problemi che affrontano i suoi personaggi, sia maschili che femminili, sono profondamente legati alla vita di tutti i giorni e parla di persone normali, non ci sono milionari, miliardari, ci sono persone con lavori comuni o anche, beh, in questo caso in effetti uno dei due è una celebrity, lui è un chitarrista, però comunque affrontano problemi nella vita di tutti i giorni e gestiscono questa problematica, parlandone, pensando prima al bene dell'altro e la Mayberry è molto brava nel caratterizzare i rapporti magari anche con i familiari, a volte è proprio la famiglia che rappresenta uno degli ostacoli che i personaggi devono superare per stare insieme o per crescere come persona singola e con ostacoli non intendo che sono personaggi negativi, ma come tutti noi a volte desideriamo avere conferme dai genitori oppure desideriamo accontentarli ma a volte non si può. Adesso quando vi parlerò della trama capirete un po' meglio. Vi dicevo questo libro è solo in inglese, la Mayberry è stata pubblicata nella collana Harlequin anche qui in Italia con alcuni suoi volumi. Troverete questi libri se li trovate abbastanza stringati perché insomma erano quei libretti sottilette da tipo 150 pagine. La Mayberry per tanto tempo ha pubblicato per questo tipo di collane. A volte si ha l'impressione che se avesse avuto più spazio avrebbe creato una trama un pochino più organica o il cui ritmo non accelerasse immediatamente da un certo punto in poi. È una cosa che si percepisce in diverse sue storie brevi, un po' anche in questa. Devo ancora raccontarvi quella sua che amo di più che si chiama Suddenly You. Vi dicevo questa storia è in inglese però si trova nel programma Kindle Unlimited quindi nel caso se avete quel programma lì questo libro è compreso, è gratis e magari potreste provare ad affinare il vostro inglese. L'inglese della Mayberry è piuttosto semplice o almeno a me pare così. La trama di questo libro è abbastanza semplice. Abbiamo questa dottoressa Leah Matthews che si trova in un momento cruciale della sua vita perché ha deciso di abbandonare il programma per diventare una cardiochirurga e perché vuole fare un'altra cosa, vuole essere un'immunologa e i genitori, in particolare la madre, non accettano questa sua decisione perché pensano che lei si stia buttando via e lei per tutta la sua vita l'è sempre accontentati ma adesso deve andare contro i desideri dei genitori che l'hanno sempre ritenuta una brava bambina. Al contempo Leah incontra un nuovo vicino di casa, un tizio, vabbè, siamo in un romanzo rosa, bellissimo, sexy, bla 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 bla, che suona la chitarra e Leah, vi dicevo, era una cardiochirurga, passava il suo tempo a lavorare, non aveva quasi nozione di quello che le stava intorno e conosce questo vicino perché lui la sente mentre lei sta parlando con se stessa prima di entrare in casa e finisce lei col volersi esporre un attimo, va a cercare di parlare. Le loro interazioni però sono molto fra virgolette banali ma in senso positivo, nel senso quello che potrebbe succedere davvero nella vita reale senza grandi gesti che alla fine sono presenti per la maggior parte solo nei romanzi rosa. Il protagonista meschile si chiama Will Jones e in realtà non è affatto una persona comune perché è una grande star che di recente del rock, che di recente ha raggiunto le vette della hit australiana con la sua canzone ed era quella che stava suonando e che era piaciuta a lei e lei non l'aveva mai sentita perché non ascoltava la radio, non ascoltava la musica ed era per una volta contento di avere a che fare con una ragazza che non lo conoscesse però se aveva soldi, come mai è in quel posto lì? Ecco Will sta nascondendo un segreto nel senso che si sta un po' nascondendo dalla stampa e sta volando basso perché si deve sottoporre a un'importante operazione chirurgica e per lui non è il momento di mettersi con una ragazza, di fare piani per quanto riguarda il futuro, aiuta Lia con i suoi piccoli drammi personali e così i due si conoscono sempre di più ma sono reticenti a mettersi, non a mettersi insieme, anche solo a baciarsi all'inizio perché insomma potrebbe significare troppo per quello che sono disposti a gestire sul momento, lui soprattutto. E questa è la storia, così nella trama. Adesso io ve la racconterei se volete spoiler, se non volete provare a leggerlo in inglese, se questa storia vi convince vi dicevo la Mayberry ha scritto tantissime altre cose e vi invito a visionarle, adesso vi racconto il resto della storia. Allora vi dicevo che Lia era la cocca di mamma e papà, in particolare la madre era un medico, anche il padre era un medico credo, la madre era un medico che aveva rinunciato ai suoi sogni quando aveva avuto la prima figlia e insomma questa cosa non l'ha mai dimenticata e sta cercando di vivere i suoi sogni abbandonati attraverso la figlia minore. Perché non attraverso la figlia maggiore Audrey? Perché la figlia maggiore l'ha terribilmente delusa quando a 16 anni è scappata di casa, parendo per mesi, vivendo con un ragazzo scapestrato che aveva incontrato in giro e poi l'avevano ritrovata con della finita all'ospedale per una qualche ragione. E insomma la madre non gliel'aveva mai perdonata e Lia, solo di recente, ormai Lia ha 28-29 anni, anzi sta per compierne 30, quindi esatto scusate, sta per compierne 30 è un momento importante per lei. Lia sta cominciando a capire che nel momento in cui sua madre non sente quello che vuole dalle figlie un po' le esclude dalla sua vita in un qualche modo e lei finora era sempre stata la sua speranza, la sua ciccina, la brava figlia e invece la figlia più grande non era estraneata dalla famiglia ma riceveva sempre un trattamento non proprio felice, veniva paragonata ai successi della sorella minore. Ma adesso che ha 30 anni Lia comincia a ragionare con la sua testa, nel senso sono brava in cardiochirurgia, io potrei diventare un cardiochirurgo, ma non è quello che mi interessa. Ha fatto un volontariato credo nel reparto immunologia, un periodo di volontariato, e lì ha scoperto qual era la sua vera passione e per quanto uno magari possa scoprire chissà cosa, la cura per chissà quale malattia, non è un lavoro che dà lo stesso prestigio e lei va a dirlo alla madre e al padre, il padre in genere non si oppone ai desideri della madre e la seconda, e la madre è contraria, no non lo puoi fare, no non esiste, non puoi buttare così il tuo talento e lì ha cominciato a pensare che per sua madre è come se lei fosse solo il talento, cioè mi vorresti bene se abbandonassi questo programma, non glielo dice ma lo sente, e per lei è difficile fare la ribelle, opporsi, nonostante abbia 30 anni, perché non l'ha mai fatto e in quel momento comincia a capire di più sua sorella maggiore e che cosa può averla spinta a fuggire così quando era adolescente. Adesso la sorella regge le critiche della madre, però insomma Lia comincia a sentirsi in colpa nei confronti della sorella maggiore che non ha mai difeso, la sorella maggiore avrà un 3-4 anni più di lei, e tra l'altro solo adesso appunto si sta opponendo alla madre e è terribile questa donna, Lia le dice io voglio fare immunologia e la madre no non puoi, in che senso non posso, ti sto dicendo che voglio farlo e la madre non è uguale a sentire parlare all'inizio, poi quando è passato un giorno la chiama, cioè è come se potessero ancora parlarne, come se fosse una decisione condivisa, Lia sta provando ad evitarla con tutta se stessa, la madre la va a trovare il giorno dopo davanti al lavoro e quindi per lei è un momento di grande stress, ma lei rimane ferma sulle sue decisioni, anche se un tarlo del dubbio c'è nella sua testa, cioè magari davvero ha ragione mia madre o però no, no, io amo immunologia, è quello che voglio fare e inoltre stavo in un certo senso buttando la mia vita, cioè devo iniziare a vivere la mia vita, non la vita che mia madre vorrebbe per me, e in tutto questo mentre cercava di farsi forza, di farsi forza e dirsi io ho la mia vita, ho la mia vita, ho 30 anni, se lo stavo dicendo così ad alta voce davanti alla sua porta mentre apriva, ti ricordavi vede sto tizio che sta facendo finta di non guardarla mentre sta entrando in casa ed è un nuovo vicino perché lei non l'aveva mai visto, credo che, non so se era, perché io fatico sempre con le descrizioni fisiche, non mi interessano molto, bello, a me basta questo, vabbè, credo che avesse i capelli mossi, forse mezzi biondi, castani, gli occhi azzurri, bla bla bla, però la sta guardando un attimo lì, e l'altro, oddio no, scusa per quello che hai sentito, e l'altro sì sì non ti preoccupare, e lei parla comunque, parla e dice troppo, e l'altro non ti preoccupare, e lei poi vede che lui sulla veranda, pare che abbiano una veranda comunque tutta in comune, in un giardino, e in tutto questo non sembra che non ci siano altri vicini, o forse ha una veranda comunicante solo tra di loro, non lo so, un giardino comunicante solo tra i loro due appartamenti, lei lo sente che suona questa bellissima musica con la chitarra, e questa canzone un po' la fa sognare, insomma, le piace parecchio, in questi giorni lei sta ancora gestendo la testardaggine della madre, e tra l'altro, forse anche per fare la brava ragazza, lei ha avuto dei fidanzati, ma pochi, era una di quelle ragazze che si controllano molto, che non fanno mai cose impulsive, e allora un giorno decide faccio una cosa impulsiva, e credo che avesse del cibo in più, vado a darglielo, vado a presentarmi, e insomma va a presentarsi a capacità sociali zero, l'altro, ah ok, grazie, e poi lei dice, allora suoni, no? A cosa suoni? L'altro, sì vabbè questa è la mia musica, no sei molto bravo, forse dovresti incidere un disco, e lui, e lei, oddio scusa se mi sono intromessa, e se ne va correndo tipo, e lui era molto stupito perché è famoso, è certo che l'ha incisa, ha venduto milioni di dischi, cioè milioni di brani, e lei non lo sapeva, però all'inizio pensava che lo stesse prendendo in giro, ma invece capisce che è genuina, e che è vero quindi, che non conosceva chi era, e piano piano, quindi, ogni tanto, lui le porta una pizza in più che le era stata data, lei aveva visto che il fattorino aveva per sbaglio bussato, il massimo delle coincidenze della Mayberry è questo, il fattorino aveva per sbaglio bussato alla sua porta mentre doveva portare una pizza a casa di lui, di Will, Will esce, quindi si vedono in quel momento, ciao, gli aveva portato una pizza in più, lui va a dirle, le busse le dice, se vuoi, ecco, per te, e lei, ah grazie, e poi, con del vino buono, no? Forse doveva andare a dare del vino, e gli stava portando solo il bicchiere di vino, e poi lui le dice, entra se vuoi, cioè, e porta qui anche la tua pizza a mangiare insieme alla fine, non aveva neanche un tavolo, tipo, non stava mangiando sul tavolo, stava mangiando su un divano, e parlano un attimo, e praticamente lei finisce col confidare tutti i suoi piccoli drammi, piccoli, in questo caso per lei era molto grande, c'è il trentesimo compleanno che si avvicina, il fatto che appunto sta andando contro la sua madre, addirittura lei aveva detto a sua madre, ho già presentato la rinuncia al lavoro, e la madre pensava di poterle ancora fare cambiare idea, aveva sclerato, era veramente una madre asfissiante, e lui l'ascolta e le dà un ottimo consiglio, le dice, guarda, tutte le volte che io ho seguito la mia strada senza fare quello che le persone si aspettavano da me, è andata, è lì che ho scoperto nuove parti di me, mi è andata meglio di quello che pensavo sempre, quindi combatti contro l'onda, contro la gente che ti dice quello che vuoi fare, segui il tuo istinto in pratica, le stava dicendo, e lei in effetti poi nel gestire alla madre si ricorda queste parole. C'è un altro momento per lei un po' pesante, perché al suo compleanno i suoi genitori la portano a mangiare fuori in un bellissimo ristorante caro, perché comunque i genitori hanno dei soldi, sono tutte e due medici, sì, forse di base, ok, però comunque i soldi li hanno. Al compleanno è invitata anche sua sorella Audrey, che non vive in città, credo, però è venuta apposta per lei, e Lia non può fare a meno di notare che i genitori, soprattutto la madre, fanno differenza tra lei e Audrey, ad esempio a un certo punto parlavano di quanto l'economia stava andando male, di un lavoro che, di quanto era difficile tenersi un lavoro, o meglio, Audrey stava parlando per una volta, faceva un lavoro, credo, marketing, qualcosa di simile, stavano licenziando persone nella sua azienda, e ecco, lì aveva detto, sì, in queste economie, insomma, è molto difficile rimanere a galla, un commento così, e il padre aveva detto, per una come te però no, non ti preoccupare per questo, e Lia ci era rimasta male perché era come se il padre stesse dicendo, per una come te nessun problema, invece è tua sorella che devi preoccuparsi. La sorella non era neanche ferita da questo commento perché ci era abituata, però era lì anche in quel momento si era sentita male. E poi le danno il suo regalo di compleanno, una busta, e quando Lia la apre è sconvolta quasi, perché è un documento che dice che i genitori hanno comprato per lei 10.000 o 20.000 dollari di azioni, di azioni blue chips, cioè di azioni valide, di quelle che nel tempo non faranno che crescere di valore, per darle una mano, per crearle un gruzzoletto di risparmio. E lei la prende male perché quando era stato il trentesimo compleanno di Audrey, alla sorella maggiore avevano regalato solo dei buoni per andare a un buoni viaggio, per un hotel, per un volo aereo. La differenza che facevano tra le due era incredibile e c'era rimasta male Lia e quindi aveva chiuso la busta sperando che la sorella non lo vedesse, lei non l'aveva visto, forse aveva intuito qualcosa. A questo punto Lia cominciava a sentirsi in colpa perché pensava non è la prima volta che i miei papà si comportano così e io l'ho lasciato accadere, anzi un po' mi sono beata della maggiore considerazione che avevano di me e non è giusto. E quindi poi dice questo a Will anche in un momento successivo. Ah sì, quel giorno stesso lei aveva incontrato Will di nuovo mentre stava uscendo per andare con i suoi genitori e lui era malato, malatissimo, stava andando a prendere le... aveva una brutta influenza, stava andando a prendere le medicine e lei dice no, vado io per te. No, non ho bisogno che sto bene, ma se stai crollando in piedi, voglio andare da solo e lei no, non ti posso lasciare andare da solo che sembra che stai sperogenire. E quindi l'aveva accompagnato fino alla farmacia lasciando che i suoi genitori aspettassero lì, i genitori un po' scocciati ma avevano atteso il trentesimo compleanno della figlia, vabbè. E lì in farmacia lui l'aveva comprato, aveva comprato le cose medicine e poi aveva detto visto, visto che sono in piedi e le aveva regalato un pacchetto tipo di cicche, di caramelline, non si conoscevano a momenti, per il suo trentesimo compleanno e lei quindi era contenta poi e mentre affrontava la madre in seguito credo che avesse toccato tipo queste caramelline eccetera. Poi per fortuna lui stava bene e erano andati a pranzo per il compleanno e la sera lei è lì sola che di nuovo sta rivalutando un po' tutta la sua vita, forse dovrebbe fare qualcosa per la sorella ma cosa perché non sono mai state così vicine, specie dal periodo in cui lei era scappata di casa e Lia, che era una dodicenne allora, si era sentita abbandonata da questa sorella maggiore che lei adorava e tra l'altro Lia non voleva neanche parlare più di tanto mai del periodo in cui era scappata. Will in pratica la convince credo ad andare da lui e le consiglia di parlare con la sorella, di fare un passo avanti. In tutto ciò mi stavo dimenticando che Lia ha scoperto chi è lui, ha scoperto chi è lui perché ma già da diverso tempo e non lo sta trattando in modo diverso perché è andata a lavoro tutta felice canticchiando il motivetto che lui stava suonando e al lavoro una collega aveva riconosciuto, aveva fatto un commento su questa bellissima canzone di Galahad Jones. Galahad Jones era il nome del duo di cui faceva parte Will insieme a un suo amico, un suo caro amico, non un fratello però era come se lo fosse. E Lia si era sentita ingannata e infatti dopo quando aveva incontrato Will se l'era presa con lui, gli aveva detto quindi mi stavi prendendo in giro? Io che quando ti ho detto che avresti dovuto incidere quel disco stavi ridendo di me? Grazie sei un bastardo, in pratica non ti voglio più vedere e sentire esagerata anche lei e lui poi era andato da lei a dirle oh non stavo ridendo di te, ero semplicemente felice che qualcuno dopo tanto tempo mi trattasse in una maniera normale, non da celebrità quale io non mi sento, non ho riso in nessun momento, era solo che che cosa avrei potuto dire? Mi conosci in realtà cioè sono famoso, inciso? Dimmi se mi avresti trattato come mi hai trattato in questi giorni, cioè da persona normale e questa per me era stata una boccata d'aria fresca, dimmelo. E lei alla fine aveva capito che lui non stava ridendo di lei, che in realtà era vero, cioè che l'avrebbe trattata in modo diverso e poi era andata a scusarsi ed era questo quindi uno, un altro dei momenti in cui erano entrati più in sintonia. Nel giorno del suo compleanno lei beve un pochino perché lui glielo offre, lui non credo che stia bevendo perché sì, non poteva bere perché stava si stava appena riprendendo dall'influenza, quella mattina stava ancora male, stava prendendo antibiotici quindi non poteva bere e lei era un po' brilla però vino a parte, la verità era che insomma voleva saltargli addosso da un po', voleva un bacetto almeno credo, forse glielo offre un attimo ma solo avvicinandosi ok, mettendosi nella sua scia e lui le dice no, 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 così no perché sei ubriaca. E lei se la piglia un attimo ma ha sempre questa sensazione che lui non ha, forse non la desideri, non la voglia e d'altronde lei si considera una mega illusa perché è una ragazza normale, lei invece l'altro chissà può avere quelle che vuole, in realtà lui fino alla prima volta che l'ha vista ha pensato che è una tizia con una bellezza molto raffinata, normale e lo attira in una maniera particolare, però si stava frenando. Ecco, finora vi ho parlato molto di Lia, ma lui, lui che cosa, quali drammi aveva? Perché non le aveva neanche spiegato, d'altronde lei non aveva chiesto perché lui l'informazione non l'aveva data da sé nelle loro conversazioni, lei aveva voluto essere, evitare di essere un'impicciona, perché lui era lì? Perché non stava, perché si trovava lì solo per qualche settimana, mese, cosa strana, lei non l'aveva neanche googlato, posto che questo libro forse era del primi anni 2000, quindi non c'erano ancora forse gli iPhone, non mi ricordo, forse li avevano appena inventati, non ho presente la collocazione temporale. Will ha un tumore al cervello ed è lì in città perché devono operarlo e lui ha dei sintomi. Un giorno era andato al supermercato e all'improvviso lui stava parlando e dalla sua bocca uscivano suoni che non riconosceva e anche se lui li sentiva non riusciva a dire la parola giusta, a Fasia credo che sia, e infatti quando era al supermercato la commessa l'aveva guardata come se fosse pazzo e lui impazzito era tornato a casa tremando, non era la prima volta che gli capitava e soprattutto sempre più ravvicinati questi episodi, l'aveva detto al suo chirurgo che non era sorpreso, è normale, man mano che cresce questo tumore questi episodi si ripeteranno sempre di più. Tra l'altro lui doveva già andare sotto i ferri ma dato che si era preso questa influenza avevano dovuto posticipare perché non possono, se sei influenzato, se hai un virus dentro comunque procedere a un'operazione simile. E lui era terrorizzato nel senso che poteva morire anche a 32 anni. Va bene che il suo chirurgo era bravissimo ma aveva appena ottenuto il successo con le sue canzoni, non che gli importasse più di tanto di questo, voleva semplicemente continuare a comporre musica, a suonare e invece forse tutta la sua vita stava per finire. Per quello non voleva immischiare con Lia, non era il momento giusto per una relazione. D'altronde non voleva neanche dirglielo perché era una faccenda sua, anche con la sua stessa famiglia, persone a cui voleva molto bene, i genitori, le due sorelle maggiori, oppure l'amico che faceva parte del duo con cui aveva avuto successo, anche con loro parlava stento di questa cosa, non voleva che glielo chiedessero, non voleva vedere la pietà negli occhi di Lia e inoltre lei era pure un medico, sapeva che gli avrebbe chiesto tutti i dettagli eccetera e quindi voleva avere un'interazione con una persona che lo ritenesse ancora normale. Soffriva parecchio per questa cosa qui e per questo quando lei gli si era offerta aveva pensato no, sarebbe da bastardo perché lo so che questa cosa è temporanea e lei però stava dubitando e quindi ci sono un altro paio di interazioni fra loro in cui insomma forse sì forse no e uno sente l'agonia quasi la sofferenza, però non è una cosa drammatica, era solo si desiderano una vicenda ma sembra che qualcosa li trattenga e ad un certo punto lui è chiaro, glielo dice no io non posso offrire niente in questo momento e lei aveva deciso di indagare un minimo, aveva detto, quando dici che non sei libero insomma di legarti in alcun modo intendi dire che sei fidanzato per caso e l'altro no no nessuna fidanzata e lei ha un sospiro del suo allievo e lui dice no è solo che non posso offrire nulla oltre questa sera, diceva e lei a una donna adulta ormai diceva ma a me va bene solo questa sera, senza alcun impegno, senza nulla e quindi vanno a letto finalmente dopo che tipo al 60-70% del libro, non una sola volta ma più volte durante quella notte lì ma non solo, lei ha l'impressione che ci siano momenti in cui l'altro la fissa molto o le sta dicendo, sembra che voglia dirle qualcosa con gli occhi perché era la sera prima della sua operazione di lui e lei piuttosto aveva già terminato il suo internato in cardiochirurgia, infatti era a casa libera per due mesi prima di iniziare il programma di immunologia e non aveva niente da fare, non era neanche brava, poteva andare in vacanza, poteva fare qualunque cosa, shopping perché i soldi non le mancavano, ma niente, non sapeva che cosa fare, l'unica cosa che aveva fatto davvero era prendere un appuntamento con sua sorella Audrey e ne avevano parlato e Lia si era scusata insomma per non averla mai protetta dai loro genitori, anzi per essersi beata della loro maggiore attenzione e considerazione e la sorella maggiore sembrava che volesse piangere, insomma sul momento la sorella aveva detto grazie per aver detto queste cose però adesso non sono pronta a reggere nient'altro. Lia era molto scombussolata comunque, sapeva che era stata la cosa giusta da fare e non si aspettava certo che la sorella si abbracciasse e dicesse grazie, mi hai sistemato tutti i problemi psicologici come hai avuto o no. E per questo poi era andata da Will nella sera, la sera prima che lui si sottoponesse l'operazione e lui era lì che pensava potrei morire domani o se non muoio addirittura potrei non poter comporre più canzoni o non parlare perché insomma andavano a toccare il cervello quindi quante cose potevano andare storte. Quello era il momento in cui lui diceva questa è l'ultima volta che io magari sono io pienamente, magari non sarò mai più così e in quel momento arriva Lia che gli vuole dire le cose sue, posto che lei non cerca di imporsi, ok non è un'impicciona, non è così terribile, ma lui ha bisogno di lei ed è per quello il momento in cui vi dico che combinano. E lei ha questa impressione, vi dicevo durante questa notte, che dormono insieme tra l'altro fino al mattino dopo, lui non la caccia via nonostante poi abbia l'operazione di mattina, in cui lei ha l'impressione che in certi momenti lui diventi un attimo triste o serio e poi il mattino dopo la sveglia con la colazione e le dice svegliati no ma in maniera tenera però purtroppo come ti dicevo io ce l'ho, ho un appuntamento adesso e lei si hai ragione no? E si veste e lo sente che lui le sta dicendo non quando ci rivediamo ti chiamo né nulla e che forse forse quello è davvero l'ultimo giorno in cui è lì o cosa? E non può neanche nonostante quella nottata sia stata speciale fare queste domande in effetti perché avevano avuto un accordo preciso non ti chiedo niente oltre questa notte però non era stato solo sesso ecco era stato una comunione d'anime o qualcosa del genere e lei ovviamente sentiva di essersi innamorata però non sta adesso da da prima e lui la saluta e le dice che era stato speciale però niente ti richiamo ti risento d'altronde appunto pensava potrei morire e lei va intorno in casa sua attorno al suo appartamento sente che in effetti lui esce dopo quindi pensa almeno non era una bugia per mandarvi via piange piange anche se è un'emozione genuina anche se non avrebbe il diritto perché lui gliel'aveva detto e dorme anche perché ha dormito pochissimo durante la notte e poi un paio di giorni dopo lei viene a sapere dai giornali che lui è stato operato credo o se non dai giornali da un collega all'ospedale o qualcosa lo viene a sapere in ogni caso o forse sì dai giornali era uscito che era stato operato al cervello no vedete che mi stavo dimenticando ecco cosa succede quando leggo questo libro da qualche giorno lei a un certo punto sente che qualcuno sta entrando in casa di will quella stessa sera e si alza vuole vedere se è lui se è tornato e invece ha una donna una donna non giovane che lui capisce subito che la madre di will perché ci somiglia e la signora le dice ah sì sei la sua vicina ho una lettera per te will mi ha chiesto di lasciartela adesso non dovrei neanche essere qui però purtroppo non riusciva a stare ferma e glielo dice la madre will è stato operato al cervello in questo momento l'operazione è finita sembra che sia andata bene però in convalescenza io ero lì che mi giravo le mani e ho deciso nell'attesa di fare qualcosa forse l'operazione non era ancora finita la madre era solo lì che aspettava però sarebbe durata ore e quindi era venuta a fare queste commissioni che il figlio le aveva detto di fare will durante la notte l'aveva scritta questa lettera mentre perché le sessioni loro insomma amorose erano state più di una mentre lei dormiva e lui non era riuscito a dormire neanche un attimo e quindi aveva scritto questa lettera in cui l'aveva detto tutto cioè ti sto guardando a dormire e comunque ti devo dire la verità so che magari mi udierai per questo non ti ho detto del tumore che ho tu sei un medico e quindi ti do i termini tecnici perché sono sicuro che vorresti saperle le descrive la massa le dimensioni il tipo non si sa se è maligno benigno potrebbe essere benigno in generale però insomma la posizione è quella che mi stanno operando ed era per questo che in tutti questi giorni mi sono trattenuto e ieri non ce l'ho fatta anche perché forse avevo bisogno di questa cosa mi dispiace comunque nel caso ti avessi recato a qualunque danno mi dispiace però questa cosa insomma che abbiamo avuto è stata speciale e come vedi non potevo fare nessuna promessa perché non so neanche come ne uscirò però insomma è stato speciale per me e ti auguro il meglio per ogni cosa ma non è un addio appunto o potenzialmente una lettera anche di addio se moriva durante l'operazione e lei disperata va subito all'ospedale la famiglia sta aspettando non si unisce alla famiglia per non essere di troppo li guarda da lontano riesce a entrare anche nella sala nella parte delle operazioni perché ancora il suo camice la lavorava lavorava in quell'ospedale lì anche se non è più autorizzata in teoria macchissene e li vede che ricevono la notizia dal dottore che è uscito e che sono sollevati e quindi è sollevata anche lei e se ne va anche se vorrebbe credo andare a vedere e non so se no quel giorno lì no forse un paio di giorni dopo perché non ce la fa più quando è assi ecco sì in quel momento legge il giornale un paio di giorni dopo perché è uscita la notizia un inserviente un infermiere così ha spifferato tutto ai giornali e nei giornali sembra che will abbia avuto un tumore maligno fosse in punto di morte che l'operazione non fosse andata bene lei preoccupatissima corre lì con la mamma ci ha già parlato e la madre tra l'altro ha capito che questa ragazza era in qualche modo speciale anche se non l'aveva mai vista e riceve quindi le notizie dalla famiglia che anzi la invitano ad entrare nella stanza a vedere e nonostante siano passati solo due giorni da quando lui era così vitale insomma molto vita è uno straccio su quel letto d'ospedale nel senso che gli hanno rasato tutta la testa i suoi vecchi apelli completamente andati e c'ha una cicatrice gigantesca perché era bella grossa con delle come si chiama staples in inglese puntine sembra sembra un uno skinhead quasi è tutto pallido non si sa insomma si era svegliato ad un certo punto ma non si sa come vanno le cose poi lui si sveglia effettivamente riesce parla con l'infermira riesce essere sarcastico non davanti all'ia che era andata via però sarebbe stata informata insomma dalla madre avrebbe chiesto notizia la madre si sveglia riesce a parlare ricorda quando è nato quindi questo è già ottimo ottimo gli fa male tutta la testa ha tutto l'occhio gonfio perché l'hanno preso lì vicino ma è normale si sente debole non riesce a muovere una parte del corpo la gamba lui sente che sta cercando di muoverla ma non riesce anche la mano poco e la dottoressa o il dottore insomma gli dice è normale in questa operazione cioè comunque abbiamo tolto un bel po di cose era benigno il tumore e adesso non dovrebbe neanche esserci bisogno di chemioterapia credo anzi sì se è benigno non c'è bisogno di chemioterapia niente è normale è gonfia la zona quindi bisogna aspettare qualche giorno e però i giorni passano li ha saputo la che cosa è accaduto e la sua mano e la sua gamba non si riprendono cioè li muove un minimo ma tipo pochissimo pochissimo e cominciano a dirgli io passa il tempo sta in ospedale credo tre settimane che potrebbe rimanere così o se non si anche recupera della funzionalità con una terapia pesante non sarà mai completa e lui ci suonava con quella mano lì e lui si era detto prima di entrare in sala operatoria se sono vivo sarà già un miracolo però adesso lo aspettano cosa un 70 anni di vita 60 anni di vita senza poter fare quello che davvero gli riempiva l'anima e quindi è depresso li ha appena saputo questa cosa e si organizza nel senso che comincia a fare ricerche e ancora nel suo periodo di vacanza diciamo così e trova una terapia un protocollo di esercizi insomma per lui che sta dando un grande esito dall'altra parte dell'oceano e si può applicare anche a lui il problema è che c'è bisogno di qualcuno di specializzato che gli faccia fare questi esercizi e che lo segua tipo 10 ore al giorno prima si fa meglio è in teoria solo che gli viene anche detto dai dottori insomma che hanno applicato questa terapia buona fortuna nel trovare un infermiere specializzato insomma che molli tutti gli altri suoi clienti per stare solo col tuo cliente lì cioè solo col tuo paziente con la persona di cui stai parlando per almeno due settimane ma tipo giorno e notte ma solo come prima fase e will viene riportato a casa dalla sua famiglia e finalmente lei comunque va a vederlo prima che sca dall'ospedale va a vederlo una volta e non gli offre il compietismo gli dice sono contenta che stai bene se ho letto la tua lettera ho capito mi hanno detto del tuo problema e riguarda che ci sono della terapia però è molto difficile ma ti lascio questo buscolo perché tu lo legga e ci sono storie che dimostrano che può andare molto bene non ti non ti si può promettere niente però la tua forza di volontà è tanta quindi magari c'è la possibilità di recuperare quasi per intero la funzionalità e è lui questa cosa da una speranza in pratica per dire le cose in breve lui alla fine decide di accettare l'offerta di lia nel senso che li ha capito che lei può aiutarlo lei è qualificata per assisterlo in questa terapia qui tra l'altro ha studiato tutti gli opuscoli insomma tutto lo studio medico e lei può aiutarlo si tratta di immobilizzare completamente gli arti che funzionano la parte che funziona alla mano gli si mette tipo un guanto ma di quelli pesanti che rende impossibile qualunque cosa in modo che il cervello per compensare cerchi di ricostruire le connessioni che sono andate perse e uno provi a al paziente provi a muovere la parte che non si sta più muovendo ma sarà frustrante faticosissimo perché poi comunque i muscoli non si tratta solo dei muscoli proprio si tratta di far ricrescere terminazioni nervose che sono state recise o che non esistono più è veramente faticoso anche fisicamente ma soprattutto mentalmente lui non voleva che lei lo vedesse così soprattutto dopo la loro ultima sera insomma non si erano parlati d'amore o di altro anche perché lei non voleva assolutamente imporsi in questo senso se doveva essere la sua terapista doveva aiutarla e focalizzarsi su questo non fargli credere che era lì per amore e tutto quanto anche se in effetti di pagamento non parlano lui poi accetta il suo aiuto insomma anche perché non ha nessun altro non so se c'era proprio un limite di tempo o fosse una questione di tempistiche ma prima era meglio era e quindi lei va a casa sua poi a fare questa terapia e la famiglia la conosce un po meglio e i familiari avrebbero potuto aiutarlo volentieri l'avrebbero fatto non avevano le qualifiche soprattutto non potevano mollare tutta la loro vita per stare con lui quelle due tre settimane ancora già l'avevano fatto per l'operazione per il periodo in cui stava male ma una aveva dei figli l'altro aveva una carriera pesantissimo stava rischiando non licenziamento era stata appena promossa i genitori avevano un lavoro anche loro non potevano insomma e quindi c'era solo lì e lei inizia con lui questa terapia gli mette questo guanto con l'altro gli dice sì dobbiamo semplicemente prova a spostare tipo questi chicchi uno per uno da una ciotola all'altra con la mano che non funzionava più e lui faceva una fatica mezz'ora per spostarne 7 e lui pensava che insomma l'avrebbe vista o condiscendente o piena di imbarazzo per quanto era stupido e ridicolo e invece no lei dice bravissimo lo segno qui mezz'ora adesso un po di riposo e poi lo rifacciamo e devi provarne a fare più di 7 facciamo 8 la prossima volta e quindi lui si sente incoraggiato e procedono in questo modo con giorni in cui a volte lui vorrebbe anche spaccare tutto insomma perché non gli funziona la sua mano è anche depresso pensa non suonerò mai più nella stampa era già circolata la notizia ha perso grande cantante insomma grande compositore ma lì è molto paziente e ecco qui ho sentito una bella accelerata nel senso che con un semplice ragionamento anche se vi dico l'avevo già percepito nel resto del libro loro non capiscono di essere innamorati lo sapevano già però si decidono a confessarlo l'una all'altra e lui glielo dice nel senso non avrei voluto dirtelo perché magari non voglio che esporti questo sentimento quando tu magari non puoi dirmi di no per pietà per come sto povero adesso però la verità è che ti amo eccetera e anche lei si mette a piangere ma piange tipo scoppiando in lacrime l'altro oddio oddio cioè perché vuoi rifiutarmi in realtà e l'altro non mi stai ridendo cioè in realtà quindi sono lacrime di gioia e l'altro sì e quindi è infelici e contenti e finisce praticamente così poi c'è l'epilogo per fortuna che c'era l'epilogo se non scleravo era troppo repentino già era un po troppo repentino ma capite io quando vedo queste cose io lo so che non è colpa dell'autrice è colpa delle costrizioni delle nel numero delle pagine limitato che le vengono offerti nella collana in questione adesso questa sembra che non sia una collana no però è una ripubblicazione insomma della non era questa la copertina originale sul kindle era diversa l'avevo comprato qualche anno fa se l'avevo letto non mi ricordavo di averlo letto comunque passa è passato un anno e il rapporto tra l'altro tra lì e la sorella maggiore odri si è molto stabilizzato sono adesso molto più amiche e lì sta facendo una cosa che sentiva di dover fare da tanto tempo ovvero è andato a parlare con i genitori lei è un immunologa adesso e va a restituire il il regalo di complano che le hanno fatto tenetelo voi e i genitori ma perché era per aiutarti col tuo futuro anche lì anche odri avrebbe avuto bisogno di un aiuto col suo futuro perché a me sì a lei no perché perché tu insomma tu stai avendo successo nella vita e la madre era veramente di una cattiveria infinita ma non per cattiveria pura era solo che ce l'aveva forse anche con odri perché era odri quella che nascendo le aveva castrato la carriera e in effetti per la prima parte della sua vita aveva provato a vedere se in questa bambina c'era parte di lei e siccome odri invece era diversa allora a un certo punto come dicono in inglese la madre writer of l'aveva è come se l'avesse depennata dalla lista ok su di te non mi posso concentrare non mi darei soddisfazioni mi focalizzo scuola più piccola e quindi lia per mettersi dalla parte della sorella dice in faccia ai genitori voi l'avete trattata male avete fatto delle differenze non si fa e quindi io questo regalo non lo voglio non non le dice non dice neanche dovete darlo un uguale odri non lo voglio perché dovete riconoscere che la state trattando male i genitori non vogliono sentire probabilmente col tempo ci arriveranno perché poi la madre aveva accettato un po questa cosa però comunque non era bello e ogni volta che andava contro il genitore lei si sentiva male e will è lì con lei la portata non è entrato alla riunione di famiglia perché insomma non era una cosa da lui lui e odri lui e odri certo lui e lia stanno insieme i genitori questo rapporto lo hanno accettato perché forse però lia ha sempre questa impressione chissà se avrebbero accettato un fidanzato rocchettaro se non fosse stato anche milionario il bello è che comunque will i soldi li aveva ovviamente però viveva in maniera molto semplice in una casetta in una mini villettina tipo da tre stanze due stanze molto molto alla mano come persona i soldi erano una conseguenza di quello che del suo successo ma non qualcosa che l'aveva cambiato per questo dico che non si percepiva neanche che insomma era una celebrity e come sta la sua mano in effetti ha quasi recuperato la funzionalità ma forse non la recupererà mai del tutto e questa poteva essere un'enorme costrizione un'enorme limitazione per lui prima ma in onore credito forse del 31esimo compleanno di lia ha composto per lei una canzone una canzone d'amore e l'ho fatto al pianoforte perché lui comunque sapeva già suonare il pianoforte ma aveva sempre composto con la chitarra la chitarra insomma richiede due mani è una mobilità perfetta delle dita chissà poi quanto tempo ci aveva messo anche al pianoforte però l'aveva fatto e quindi era capace di comporre creare musica adesso anche al pianoforte e magari non avrebbe mai non sarebbe mai più stato come prima non so non zoppicava riusciva a camminare forse a correre non lo so insomma era un percorso che doveva ancora portare avanti ma il punto era come la stava prendendo lui cioè non più disperatamente vedendo una speranza per il futuro e quindi poi vanno via nella macchina fuggendo verso la felicità questo è il finale ecco penso di avervi dato un'idea di come la Mayberry scrive i suoi libri ci sono due storie altre due storie sue che adoro disperatamente lei inserisce queste dinamiche familiari parecchio figli che devono capire come gestire i genitori perché proprio perché li amano sono molto influenzati da loro ancora è una di quelle donne che ti fa capire che non c'è bisogno di parlare di mega miliardari e di feste balli eccetera per scrivere una buona storia d'amore leggerei centinaia così di storia spesso poi fa anche questa era una storia situata situata ambientata a melbourne in australia a volte le ambienta anche invece in città più piccoline a volte forse anche negli stati uniti sì so che i lettori americani sentono che il linguaggio della Mayberry a volte vira verso lo slang australiano personalmente non me ne accorgo non avendo questa capacità di discernimento di differenziare le due parlate io l'adoro non lo so spero di avervi reso un attimo come l'autrice è brava il livello di hotness di sensualità delle sue storie è parecchio alto un genere tende ad essere descrittiva ma non cruda però diretta questo sì e sempre per farvi capire magari adesso inizierò a dirlo quando non vi descrivo le scene hot non ve le racconto perché no i dettagli però per farvi capire se fa per voi ci sono altre storie moderne in cui in queste scene di intimità insomma si usano termini un po' volgari che ci stanno è per alcuni personaggi specie sono molto giovani o insomma è pieno di fa 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 che ecco no non c'è neanche mezzo qui è la la Mayberry parla di persone educate e che si spingono in là ma senza bisogno di strane pratiche né nulla è molto vaniglia volendo però insomma non tralascia i termini tecnici quando necessario per farvi comprendere niente finisce così oggi la mia narrazione se proverete a leggere questa autrice mi farebbe piacere sapere che cosa ne pensate sicuramente vi racconterò altre sue storie quando le rileggerò e ditemi però quanto le volete se conoscete altre autrici che contemporanee che vi ricordano la Mayberry perché se io ne posso scoprire altre come lei sono molto contenta vi ringrazio tantissimo di avermi ascoltato anche oggi mi raccomando se volete sostenere il mio canale potete iscrivervi potete abbonarvi se vi va avete la possibilità di vedere le mie dirette immediatamente dopo la diretta come unico privilegio per il momento senza aspettare le almeno 12 ore di elaborazione del video ma principalmente è per aiutarmi oppure un altro modo per aiutarmi senza spendere nulla in più per voi è cliccare sui miei link di affiliazione e fare i vostri acquisti a me arriva una piccola percentuale in particolare per esempio e questo mi aiuta tanto si chiamano i bonus se vi iscrivete con la mia con i miei link per esempio a kindle limited anche solo per quello io ricevo già 3 euro è alto come bonus rispetto anche a centinaia di euro ed acquisti che a volte mi generano un pochettino che però insomma serve sempre quindi solo perché lo sappiate se vi piace quello che sto facendo perché comunque appunto i miei video sono oggi che cosa ho fatto 50 minuti insomma ci si impiega un po di tempo mi piace però se mi potete dare una mano sono sempre più felice ok basta basta fare la sottona vi ringrazio tantissimo per essere stati con me anche oggi e alla prossima grazie a tutti